Un inaspettato scontro diretto per il secondo posto in classifica quello che ha avuto luogo ieri al regionale Traggiarre e Pedara-Sampio X. Una non aggiornata del girone B di eccellenza che poteva modificare i primi posti della graduatoria, come in effetti ha fatto anche se negativamente per il giallo-blu. Finisce infatti con uno 0-1 il sorpasso dei bianco-rosso e i danni dei giallo-blu privi di curcuruto. Al posto del terzino destro, spazio al recuperato Joachim Santitto che con Patanè, Famae e Villani forma la difesa davanti Nicotra. Largo a destra Di Mauro, Leotta dalla parte opposta, Capitan Patti e compagno centralmente con Nirelli dietro a Leo. Dopo un minuto di silenzio in memoria del giovane Dario Chiappone, agli ordini di Giuseppe Tarallo della sezione di Agrigento comincia il match, imbottito di ex da entrambe le parti. Primo quarto d'ora spento da parte di tutto il Giarre, Leotta per primo, che però cerca la sveglia proprio con Mattia Leotta al diciassettesimo con una palla recuperata che però non trova il tiro vincente. Non succede nulla per venti minuti buoni con il pubblico che quasi sopito si sveglia con uno spavento al trentatresimo. Contropiede ospite sull'unico corner giarrese e Nicotra si avventa fuori dall'area malgrado la copertura di Villani. Il tiro di ranno dai trenta metri a porta vuota fortunatamente scivola sul fondo. Qualche minuto più tardi altro spavento con il Pedara che prende campo e dopo un bel giropalla crossa per la testa di Barberi che trova un ottimo Nicotra che si riscatta. Il secondo tempo inizia come si era concluso il primo, Pedara-Sampiodecimo che attacca e trova il giropalla, Giarre che invece lancia lungo a cercare il guizzo di un aleo ben imbrigliato dai centrali ospiti. E' all'ottavo del secondo tempo che arriva il gol, cross dalla sinistra, tentativo di Barberi su primo palo che viene murato ma sulla seconda palla cortese trova la coordinazione vincente. Nicotra battuto e Giarre che si fa trovare scoperta con Fama momentaneamente a bordo campo per infortunio. Fichera tenta di aumentare la forza offensiva cambiando Nirelli con Dumitrascu ma è il Sampiodecimo a sprecare il raddoppio con Maimone che spara su Nicotra dopo essersi ritrovato solo a causa di un liscio di Patanè. Al 28esimo Aleo cerca la soluzione personale superando tre avversari in serpentina ma viene murato. Partita che può cambiare al 37esimo. Compagno trova Dumitrascu che viene spinto in aria e per l'arbitro è il rigore. Si incarica Patanè di battere il penalty non proprio netto ma Romano si supera e para sulla sua destra. Ranno viene ammonito due volte nel giro di pochi minuti per proteste e il Giarre con l'uomo in più mette addirittura Patti a fare il centroavanti Boa per gli ultimi minuti. Ma il triplice fischio sancisce la prima sconfitta stagionale al regionale per gli uomini di Fichera. Adesso la trasferta ad Avola che resta comunque un altro scontro diretto perché la classifica è corta e tutto può cambiare in meglio o in peggio.